e siamo in linea buongiorno a tutti eh per questo insolito incontro eh questo webinar dedicato a un argomento che sicuramente chi si è iscritto interessa moltissimo eh questo incontro sulla spiegazione di come funziona questo protem di cui molti hanno sentito parlare ma non sanno bene le dinamiche o come funziona in presento mi chiamo Marco Di Marco sono il direttore della rivista Sciare in questo caso non sono in redazione ma sono in trasferta in eh in Val di Fiemme in particolare l'ufficio turistico di Cavalese come si vede con questi roll up qui domani ci sarà il tour of the Alps in una gara di bike eh anche perché siamo a a Pampeago a fare i test degli sci con il pool e quindi siamo gentilmente eh ospitato nella sede dell'ufficio turistico qui tra l'altro splendida 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 sede eh ovviamente presento gli ospiti eh sicuramente Alastair Smith che è responsabile del del progetto del prodotto ProTerm hi hi Alastair how are you fine ok ovviamente Daniela Ciccarelli che si è offerta eh di spiegarci un po' visto che lei ha 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 utilizzato da da qualche anno questo questo sistema però vedremo come è in evoluzione per cui ci sono tante cose che ogni giorno scopri no Daniela vedremo Daniela tutto bene sei in forma? Beh io sì ritorneremo in forma usiamo questo plurale maiestatis e grazie per l'invito una bella opportunità per parlare ancora di sci siamo proprio malati quindi ben venga. Un po' nascosto c'è Andrea Cappelletti che insomma fa parte del vostro team che dà una mano nella comunicazione uomo di di nevi di Coppa del mondo da tantissimi anni eh con tanti brand è un ultimo volet quindi è vicinissimo al mondo agonistico come c'è anche eh Laura Cazzaniga che è della redazione di sciare ciao Laura eh siccome vi daremo la possibilità eh di fare delle domande magari eh c'è qualche domanda che magari la stessa Daniela non sa rispondere più legato al prodotto quindi per per abbreviare un pochino i tempi di traduzione Laura di nascosto farà intanto le domande che potrete scrivere nella chat ad Alastair con la relativa eh risposta quindi per abbreviare un pochino se non stiamo qua eh tanto tempo e siccome immagino ci saranno tante domande eh intanto che aspettiamo eh che si eh entrano un po' tutti perché ci sono state quasi duecento iscrizioni intanto rompiamo un attimo il ghiaccio insomma non posso evitare Daniele di chiederti come sta Laura insomma sta sta recuperando un po' fisicamente no? Si sta recuperando bene come sapete se non lo sapete ve lo dico si è fatta male il sette l'otto l'otto di febbraio la macurcevella è caduta nella fase di riscaldamento e ha riportato la rottura del crociato che è stato operato a Lione da Son Enrico Te il quindici febbraio è seguita poi una prima fase riabilitativa vicino Lione a Haughtville siamo appena ritornate dalla seconda che per lei è stata un'esperienza indimenticabile tipo vacanze vacanze tipo gita scolastica perché lì ovviamente ha legato molto con altri ragazzi dello sci ma anche di altri sport e e quindi diciamo che questo percorso che sarebbe eh di comunque un po' di sofferenza in realtà si è trasformato per lei in qualcosa di di molto divertente la forza dei sedici anni dico io via di loro. Ok dai vabbè meno male eh però insomma sappiamo che c'è anche un piccolino un piccolo culturino che sta andando benino giusto? E adesso sta andando a scuola perché comunque quest'anno hanno avuto la geniale idea di mettere insieme tutte le finali nazionali fra Criterium e poi Pinocchio e poi ancora giovanissimi quindi hanno avuto un buco spazio temporale questi cuccioli che non sono più andati a scuola quindi adesso è giusto che invece si metta sotto quei libri con la nonna armata di ciabatta che cerca di aprire i chakra dico io no? Cerca di di recuperare tutto recuperabile. Sì sì ok io direi di iniziare a parlare di proterna senti Vianni ho la 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 domanda base è come si usa a che cosa serve eh proprio partiamo dall'ABC perché non tutti magari sanno di che cosa si tratta no? Certo allora si tratta un po' pensando anche a quello che avviene nel mondo dei motori quindi delle moto e delle auto in modo ancora più complesso già quando ero atleta quindi i miei ultimi anni eh però insomma della maturità agonistica perché avevo già una trentina d'anni con Alessandro abbiamo sentito un po' questo bisogno sa che negli ultimi anni della carriera Alessandro era mio ski man e quindi abbiamo sentito un po' appassionati di motociclismo abbiamo detto ma è possibile che non si riesca a portare un sistema di telemetria di GPS con il quale comunque andare a fare un'analisi più dettagliata no? Delle accelerazioni e delle decelerazioni avevamo già comunque utilizzato un prototipo eh un prototipo per lo sci ma in realtà eh messo appunto da da un gruppo di ingegneri proprio per la superbike eh e ma era un gran casino era un gran casino Marco perché lì dovevi proprio fare una una selezione dei dati registrati durante la giornata che richiedeva ore e ore di lavoro adesso eh anche Corradino che ha lavorato con la squadra con i primi prototipi di GPS ve lo potrà testimoniare ci vorrebbe una persona ad allora ci voleva una persona dedicata che stesse lì delle ore e e questa cosa portava via tempo a me perché comunque aiutavo Alessandro poi nella nella selezione dei dati e nell'analisi anche dei dati e ad Alessandro che faceva da schimera ovviamente diventava diventava qualcosa di ingestibile e quindi poi il bisogno a distanza di anni ho visto su YouTube delle dimostrazioni di Daxter House che è stato uno dei primi allenatori della della Shifrin eh esordiente in Coppa del Mondo era accompagnata da questo Daxter House amante amante della tecnologia applicata allo sci e e lui aveva condiviso su YouTube delle cose fatte sia con lei ma anche proprio con poi con a seguire poi con il suo gruppo di ragazzi di atleti e la cosa mi aveva incuriosito tantissimo perché cambiava un po' la prospettiva cambiava un pochino le carte in tavola nel senso che il nostro lavoro di allenatori è molto di di sì di feedback di correzione no quindi questa correzione che comunque deve essere sempre poi contestualizzata con il tempo cronometrico e quindi questa correlazione tempo della prova e correzione diventa secondo me qualcosa che ha troppo a che fare sempre con il giudizio bene male meglio peggio e anche l'atleta no si tende un po' a fargli subire questo meccanismo come il criceto che gira nella ruota no quindi ogni giro cercare di far meglio ma senza sapere dove ecco invece proprio eh poi girando su internet vedendo queste analisi su YouTube è pieno di tutorial sul sito di pro turn ce ne sono un'infinità di tutorial si può apprezzare come questo strumento perché altro non è che uno strumento eh cioè non è che improvvisamente la panacea che prendiamo pro turn e e ci corregge lui l'allenatore ha ovviamente ancora tutto il suo valore e tutta la sua importanza e lo strumento non deve non deve togliere comunque all'allenatore quella lettura anche ehm se volete oleistica della situazione dell'atleta e quindi i dati sono un elemento in più ma non possono essere un elemento eh assestante e da lì abbiamo cominciato a sperimentare io sono ancora nella fase di sperimentazione e il problema è che loro sviluppando sempre nuovi tools nuovi nuove nuove eh ma anche nuove grafiche ma anche nuovi nuovi dati nuovi nuovi elementi per analizzare sempre più nel dettaglio la prova e devi stargli sempre dietro ogni tanto dico ma questa cosa dove l'avete pescata e quindi è un upgrade continuo senti Daniela però spiegami un attimo sì me l'ho persa la domanda ecco esatto quella domanda lì giusto allora è fatto così questo si chiama sensore perché poi se sbagli le parole all'italiano non so quanto lo capisca ma le parole chiave sensor lo capisce questo è il sensore e basta metterlo lo accendi lo schiacci su questo tastino lo accendi se accende una lucina blu credo adesso non mi ricordo se è blu se è verde è un po' che non utilizzo ma tipo un mesetto e lo metti dentro questo pettorale eh che indossa l'atleta e tra l'altro è un pettorale un po' particolare perché non è quei soliti pettorali gara ingombranti svolazzanti quindi lo puoi mettere eh facilmente neanche te ne accorgi ci sono un sacco di video di Christofferson che lo indossa si si inserisce nel taschino e tu vai e questa è la figata perché comunque in realtà tu puoi o utilizzare l'analisi delle run run dopo run scaricandole sul tuo sul tuo device che può essere un telefonino può essere un iPad c'è l'app di ProTern tu ti scarichi la tua app ti fai la tuo account e di volta in volta puoi scaricarti i dati io sinceramente sono vengo da Roma sono un po' pigra eh io io preferisco fare tutta sta roba al calduccio quando rientro poi nel mio albergo e e anche perché mentalmente così riesco proprio a discernere un po' eh le due cose no? In pista con l'atleta giriamo e vediamo cosa sono le nostre impressioni lavoriamo molto sulle sensazioni dell'allenatore e dell'atleta poi si rientra sempre attraverso l'account io preferisco su PC perché c'è una c'è una facilità insomma gestionale diversa rispetto rispetto ai tablet o ai telefonini io mi scarico la mia eh tutti i mie dati quindi connetto il mio sensore con un cavo al computer e lui mi scarica i dati della giornata identificabili proprio con data ora e poi quei dati però vanno un pochino eh contestualizzati in una mappa quindi c'è tutto il percorso dell'atleta la sua discesa la risalita in seggiovia diciamo che è molto evidente qual è lo start e qual è l'arrivo eh lo puoi identificare eh da da screen poi vi farò vedere come o anche la mattina quando tu accendi il tuo sensore prima di farlo indossare all'atleta puoi traccare la partenza quindi basta che fai eh due tre volte avanti indietro in modo trasversale rispetto al senso della della discesa e lo puoi fare anche volendo ogni porta tu puoi mettere dei dei sì dei track dei dei ehm dei segni praticamente sulla tua pista semplicemente facendo questo movimento trasversale rispetto alla massima pendenza quindi partenza infiniti intermedi quanti ne vuoi e arrivo ancora una volta lo puoi fare o in pista oppure quando ritorni in albergo scarichi i tuoi dati adesso io non so se volete vi faccio già una condivisione dello schermo vi faccio vedere più o meno quello che è il risultato della 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 discesa su una cartina topografica come te la mette pro turn quando fai la la tua quantrica perché volevo capire come fai per esempio a distinguere cioè come fa questo sensore a capire qual è il momento della prestazione della sciata in campo libero o della ricognizione o di altri momenti insomma immagino che ci sia un settaggio particolare da fare no certo certo la vado in condivisione di schermo eh ditemi io sulla tecnologia ragazzi ci ci litigo abbastanza però ditemi se funziona tutto ehm ci siamo eh Ivania si vede Ivania si vede si vede anche la adesso la condivisione di schermo siamo sull'app di pro turn sulla loro piattaforma perché non è un'app questa è la vera piattaforma di pro turn la vedete? Sì si vede bene non male questo momento di silenzio mi aveva un po' inquietata allora andiamo a vedere come ci apre la nostra adesso speriamo che la connessione io qui a Cesana Torinese ho una connessione un pochino pessima però insomma finché tutto fila liscio voi datemi segnali di fumo nel momento in cui sparisce qualcosa eh allora questa pista è la aerta siamo a San Vigilio siamo più o meno ad una settimana prima più di una settimana prima delle gare perché è preimito sciare allenarsi però spiegaci bene spiegaci bene dove è l'erta perché qui ricorda di più l'autodromo di Monza più che altro spiegaci bene com'è qual è l'era allora se vedete questa è la è la risalita con con l'ovetto con la cabinovia arriviamo in cima a questa qua dobbiamo chiamare Murg perché poi nella fattispecie col d'Ancona credo boh non so penso di sì ehm arriviamo in cima sci in campo libero vedete che la partenza della prova è abbastanza evidente perché perché c'è questo sporco no quindi dove l'atleta si toglie gli sci o fa riscaldamento e quindi si crea questo questo sporco che va ad identificare il momento in cui io raggiungo la partenza del tracciato poi poi c'è una cartina topografica sotto quindi è molto facile anche individuare le pendenze no vedete che qua proprio come la gara come avete visto in televisione parte subito con una piccola rampa di lancio quindi dove le linee topografiche sono le le curve di livello giusto le curve di livello si avvicinano molto vuol dire che il pendio è molto ripido dove invece c'è molto intervallo fra una linea e l'altra lì è piano decisamente piano e questo è un piano eh abbastanza importante perché siamo sulla ventina di secondi determinanti direi io perché dove scifri ne fa sempre la differenza e poi qui invece c'è il salto nel baratro no vi ricordate quindi curva a gomito cambia anche l'inquadratura delle telecamere e lì eh vedete grandi spruzzate di neve perché la aerta lì si fa veramente difficile veramente difficile tant'è che Lara è uscita su non adesso non mi ricordo quanti giri abbia fatto quattro cinque poi lo vediamo insieme è uscita un po' di volte vedete queste deviazioni ecco non è non sono giti gite turistiche è proprio andata come direbbe il buon di chiesa a Margherite e intervallate ovviamente ripido intervallato da media pendenza intervallato poi ancora da ripido contro pendenza fortissima e qui dove la aerta si fa storta eh tutta in contro pendenza sul piede destro e poi parte finale con ravvicinamento delle porte infatti anche qui la la rete è andata un po' a spasso parte finale traguardo adesso andiamo a creare la nostra quantica no questo è quello che fammi domande Marco eh se c'è qualcosa di poco chiaro sì finisci magari il tuo percorso perché perché magari alcune domande si trovano nel percorso che stai seguendo ok quindi allora noi sceglieremo come adesso provo a spostarmi ecca esatto vedete che c'è moving start oppure standing start allora proprio per le caratteristiche del GPS che è estremamente preciso come sistema per essere un sistema gestibile nel mondo sci poi ci sono dei sistemi ancora più precisi perché diciamo che il margine di errore il il delta di errore eh a livello proprio di di traiettorie può essere anche a volte di trenta centimetri con il sistema di progettore ci sono sistemi molto più sofisticati dove il margine di di errore è di soli due centimetri o anche meno però poi quelli hanno bisogno di un'antenna di 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 un segnale molto forte satellitare cose non gestibili nel mondo sci qua è tutto raccolto in questo sensore che insomma basta accendere e spegnere prima e dopo il nostro allenamento ehm quindi sceglierei scegliamo sempre per comodità di azione moving start perché perché se faccio la partenza da fermo come quella col cancelletto e succede che io magari io atleta sembra che vada in realtà mi sto solo scaldando mi sto solo agitando il GPS mi dà il segnale con questi avanzamenti arretramenti mi dà il segno mi sporca il segnale come se io fossi già in movimento quindi faccio sempre moving start quindi sta in partenza in movimento e la vado a settare ma diciamo un due metri dopo la linea di start così sono sicura che non ci sia sporco non ci siano movimenti strani e poi di intermedi eh posso metterne in modo infinito tipo qua abbiamo questa rampetta rampa di lancio e vogliamo vedere con che velocità entriamo nel piano e che velocità portiamo fuori da questo piano e mi metto infiniti intermedi eh o split come li chiama ovviamente in inglese il nostro sistema eh qua c'è l'errore per esempio di Lara io lo vado ad escludere vado ad escludere l'errore perché voglio confrontare poi le le diverse prove ne ha fatte quattro e voglio che sia un paragone abbastanza omogeneo no senza ovviamente quelli cita ha creato una frenata oppure una un accorciato la ha tagliato la traiettoria e quindi mi va un pochino a falsare quello che è il confronto fra un giro dell'altro se io per esempio sto provando dei materiali di strutture diverse un setup diverso magari ho piacere di escludere dove Lara è uscita quindi lo scluderò lì e lo scluderò anche qui per avere comunque poi dei settori abbastanza abbastanza omogenei abbastanza simili e poi qua è l'arrivo evidente che è l'arrivo perché c'è una dilatazione delle curve abbiamo tracciato qui intorno ai ventisette metri rispetto ai ventitré e ventiquattro che era la parte più tecnica e poi vedete proprio come ha passato l'arrivo Lara se ne va un po' più a destra un po' più a sinistra quindi c'è una eh mentre prima tutte le traiettorie sono belle sovrapposte qui c'è poi una apertura a ventaglio e quindi andiamo ad escludere diciamo che questo è il nostro arrivo per essere io per essere sempre sicura lo metto all'altezza dell'ultima porta perché sono sicura che magari dopo l'ultima porta la la pelandrona si alza un pochino prima di giro in giro e e allora rischio di avere poi delle delle interferenze sul risultato finale. Buon poi battezzo la mia quantrica quindi che sono San Vigilio San Vigilio eh prova se no poi faccio un gran casino eh posso descrivere la prova qui beh questo qui è gigante ovviamente poi qui posso mettere anche tutto quello che stavo testando tipo sci più duro sci più molle eh scarpone più inclinato in avanti salvo la quantrica confermo oh se sono diventata troppo noiosa facciamo un direttivo eh era credo il quindici di febbraio di gennaio quindici di gennaio quasi ma febbraio mh febbraio qua e lo so adesso ci arrivo eh era febbraio così però vai in avanti se il quindici febbraio gennaio devi devi andare dall'altra parte ah è vero casino qua ecco me ma me l'ha messa al contrario in gennaio ah no me l'ha messa come sempre sono io che sono un po' concentrata su altro ci siamo in gennaio sei andato troppo giù oltre era il quindici nove quattordici quindici ok andiamo a vederci la prova pro turn come come viene la nostra analisi voilà grazie Marco eh eccola qua questa è l'analisi che io ho e andiamo a vedere più sotto ho tutti i tempi cronometrici che questa è una gran figata cioè per chi va in giro adesso non cito marche di cronometri perché poi ce ne sono di più complessi di più precisi di più di quelli che quando c'è la nebbia danno i numeri eh di quelli che si è dimenticato di caricare le batterie e quindi evita inevitabilmente non vanno che richiedono del tempo no invece qua guardate il nostro atleta ha girato tutto il giorno eh la in questo caso Lara si è fatta solo cinque giri ehm però abbiamo una serie già di 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 prove con infiniti split partenze e arrivi anche qui posso andare poi a settare la mia metrica quindi posso vedere voglio andare a vedere eh le differenze di velocità no quindi mettere la velocità media la massima velocità la velocità istantanea ed ecco che allora quell'analisi si va a arricchire di dati infiniti per che cosa mi possono servire beh mi possono servire prima di tutto per vedere la qualità di una spinta di partenza ad esempio no mi sono spinto più o meno bene metto il mio split alla prima porta e vedo subito l'accelerazione la la punta di velocità e poi soprattutto mi è interessantissimo per andare ad analizzare i vari ingressi nei nei raccordi con di settore in settore quindi se ho sciato bene il ripido avrò poi una velocità più alta di ingresso di quel piano infinito che abbiamo visto prima insieme di di venti secondi ma torniamo di nuovo ad una metrica più diciamo più elementare se io voglio andare poi ad analizzare le mie run questa è la run più veloce e questa è quella che diciamo è più vicina alla run più veloce vado a farmi la mia analisi ok posso scegliere questo criterio vedere come state vedendo voi dimmi se vedete tutto tra l'altro adesso sposto un po' più ecco così è un pochino più posso andarmi a vedere questa sovrapposizione delle due discese dove il sistema la piattaforma mi mette sempre in testa la lo eh scusate il giro che in quel tratto è il più veloce quindi fra il primo e secondo giro in realtà sarebbero il quinto il quarto giro l'accelerazione iniziale è migliore con il quinto giro però vedi che c'è una una bella alternanza questo perché comunque basta che mi sono tirata su dalla posizione o preso aria basta una frenata poi lo vedremo meglio con le analisi eh del pro turn abbinate alla video la videocamera abbinata alla ripresa video che è veramente qualcosa di molto impattante soprattutto per gli atleti perché è proprio evidenzia come un errore come girare i piedi come intraversare prima di un passaggio difficile faccia eh frenare tantissimo dal punto di vista proprio della della velocità chilometrica istantanea quindi io vado ad analizzare dimmi Marco tu dimmi pure forse l'hai un pochino accennato però mentre spieghi secondo me dovresti puntualizzarlo un po' no? Qualche corrispondenza c'è con il tempo rilevato no? Da qualsiasi tipo di pronometraggio tradizionale cioè perché penso che sia abbastanza importante questa cosa no? Allora ovviamente con il settaggio della partenza in movimento quindi con una portenza eh ritardata di due metri rispetto all'apertura del cancelletto quando noi andiamo a fare un paragone sul campo spesso lo facciamo perché ci troviamo magari ad allenarci con altre squadre aggregate altre squadre e quindi loro ti danno i loro tempi cronometrici tu dici ma vediamo un po' questo pro turn quanto quanto è distante no? Eh in realtà c'è una bellissima corrispondenza il giro più veloce è sempre il giro più veloce non è che quei due metri vadano a falsare poi i valori della prestazione no? Ovviamente insomma difficilmente eh però ovviamente c'è una differenza di un paio di decimi solo per il fatto che la mia è una una quantrica quindi una un settare la partenza e l'arrivo a posteriori su una carta topografica nel momento in cui invece io vado a traccarla quindi al mattino vado a segnarmi la mia partenza in modo molto preciso dove è proprio corrispondente il cancelletto e poi l'arrivo dove sono le cellule dell'arrivo ovviamente c'è molta più più corrispondenza ecco vai a limare a limare parecchio. Senti una volta che tu analizzi tutte queste traiettorie no? Che vengono fatte ma qual è il dato più importante che nella tua giovane storia di questo di questo strumento che stai usando eh consideri di più no? Che analisi fai? Allora mh va un po' va un po' spiegato nel senso che è vero che c'è un delta di errore anche di trenta centimetri ma io anche in slalom guardo tantissimo le traiettorie e le velocità. Le velocità sono sintomatiche insomma della bontà del di quello che hai costruito nel settore precedente e quindi l'immissione in un piano io vado a mettermi il mio split vado a vedere la velocità se entro con una velocità più alta o quello sci è decisamente più veloce quindi c'ha più spunto c'ha più accelerazione o eh il mio atleta ha sciato meglio le due tre curve prima di mettersi nel nel tratto di piano o viceversa. Io eh mi piace molto mettere i gli split quindi gli intermedi eh guardando la carta topografica perché vedi proprio eh anche la differenza di eh di sciata da un giro all'altro ad esempio provare delle tecniche diverse quindi una sciata magari più respirata più verticale rispetto ad una più compatta e sopra i piedi poi dopo vedi una differenza evidente di velocità di accelerazioni nella nell'ingresso degli split no negli intermedi e quindi quella una delle cose che guardo di più e poi la seconda le traiettorie mi dire mi dirai ma com'è possibile sta messo in testa quindi quando poi ti inclini a volte ti inclini di più a volte pieghi meno e quindi già quello va a falsare eppure non ci sono santi io eh quando vado ad ingrandire queste immagini vedete che adesso provo a girarvela in modo un po' più ok vedete che c'è una discrepanza comunque di di a volte più di di trenta centimetri no? Eh eh e proprio magari anche in pista con il mio atleta con la Lara specifico le vado a chiedere prova ad essere adesso un pochino più rotonda più conservativa eh con costruendo la curva sopra il palo e poi il giro dopo proviamo una lettura completamente diversa ok adesso prova traiettorie più tese adesso prova a risentirti un po' con l'acqua alla gola e vediamo la differenza ci sono piste dove eh il proteone mi ha smentito cioè quello che per me per esempio in folgaria era un un imprimato cioè era una cosa inderogabile era essere rotondi su tutta la parte dell'agonistica quella un po' più ripida per non trovarsi in ritardo per non frenare sotto al palo invece proprio con il proteone siamo andati a fare questo tipo di di verifica sul campo e poi lì il ripido non è così ripido e quindi anche una sciata magari un pochino più sfogata sotto al palo magari un pochino più azzardata un pochino più più tesa palo palo e alla fine era era più veloce e ti permetteva comunque è una pista è una pista che ti permette sempre il recupero quindi eh la lettura dei dati deve essere poi un pochino contestualizzata per andare a caratterizzare la lettura della pista e questo ci ha permesso proprio di di sfatare alcuni miti che per noi appunto erano eh sul ripido sempre rotondi ehm ingresso sui piani non finire mai in ritardo e su su alcune piste vale su altre e su altre no proprio in virtù delle pendenze delle contropendenze di di questa caratteristica eh morfologica che cambia di pista in pista e che quindi non può essere generalizzata solo con delle massime. Senti ma proprio dicendo attaccandomi a quest'ultima cosa che hai detto no? Insomma l'allenatore rischia anche un po' non di essere sbugiardato insomma di di avere determinate idee e tesi insomma anche brutto di di esperienza poi magari quest'analisi chiamiamola intelligenza artificiale insomma ti dà dei dati che va un po' contro a a quello che pensavi cioè a a te è capitato più volte oppure? Capita ogni giorno. Tutti i giorni. Capita ogni giorno. Capita ogni giorno eh vabbè no non sempre non è che vengo sbugiardata tutti i giorni dal pro turn però cambia anche il mio atteggiamento nel senso che eh cerco di mettermi in discussione in ogni allenamento provando cose diverse e questo rende anche il rapporto con l'atleta molto più costruttivo perché non sei più te che pontifichi e dici va affatto così devi muoverti di più devi avere una posizione più centrale e devi avere più rotondità sull'attacco curva ecco io ho subito un po' questo meccanismo negli anni perché comunque ci sono stata non voglio dire quanto perché sennò poi scopri quanto sono vecchia però insomma sono cresciuta eh e invecchiata facendo l'atleta ho smesso trentaquattro anni e di allenatori che pontificavano dicendomi la loro verità io ho sentiti parecchi eh e poi ho saputo apprezzare quelli che invece erano capaci di mettersi in discussione e che mi dicevano dai Dani oggi vediamo insieme eh cosa scopriamo no? Il pro turn secondo me è uno strumento fantastico per questo adesso voglio farvi vedere magari delle cose un pochino più dinamiche che possono aiutare di più l'atleta perché effettivamente tutto sto pippone l'atleta non puoi non puoi propinarglielo eh perché il video e l'atletica il pomeriggio il defaticamento e poi gli fai vedere ancora le analisi del pro turn se suicida una cosa molto molto immediata invece a livello proprio di 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 feedback è l'utilizzo del del video abbinato ai dati del pro turn io uso un'applicazione diversa che è telemetri telemetri overlay eh però comunque con con i vari tutorial di che trovate su pro turn riuscite a scaricare i dati e a caricarli sul vostro sul video che avete realizzato in pista io vado se mi interessa vedere ok certo vi faccio vedere tutta la discesa allora in basso avete la la variazione di velocità in modo istantaneo metro per metro anche laddove quasi l'atleta si sdraia e quindi capite che per l'atleta è evidente che cosa evidente come eh sia capace di mantenere la velocità in ingresso e in uscita curva e dove invece per esempio una frenata una sterzata dei piedi progressivamente ti porta a ad avere anche due chilometri all'ora di frenata in uscita curva e questo per ricollegarmi non so se c'è la Babi Milani collegata con noi me l'aveva promesso eh se non c'è ragazzi mi arrabbio perché noi ci siamo sentite spesso durante durante la stagione e lei mi ha detto ma tu che c'hai questo pro turn no? Eh era col Boselli mi sa che parlavano col Boselli un pomeriggio mi fa ci spieghi cioè ci spieghi eh hai voglia di andare a vedere dov'è che si raggiunge la massima velocità se ha inizio curva verso la massima pendenza o se in uscita curva nella seconda parte subito dopo il palo eh beh eh vedete che è molto è molto variabile questo 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 valore perché perché se l'atleta riesce a costruire una bella curva con un inizio curva eh preciso ma quantomeno in deformazione dello sci qui questa ha fatto una piegona pazzesca non proprio centralissima adesso non andiamo nel dettaglio comunque non ha sterzato non ha girato i piedi allora ecco che vedete che è un'accelerazione progressiva e costante e il massimo della velocità riesce proprio a portarlo fuori nel collegamento fra questa curva e la successiva attacco della successiva guardiamolo subito perché interessante anticipa l'ingresso con il busto va a fare questo drift questo questa rotazione dei piedi fatemi parlare in italiano perché sennò quasi incavolano ok rotazione dei piedi quindi sporcatura è vero che è andata subito verso la massima pendenza quindi riesce ancora a rosicchiare due due scusate due chilometri all'ora di velocità ma subito dopo però deve fare i conti con questa strozzatura della curva e quindi va progressivamente a frenare vedete il la fumata bianca dello sci esterno è proprio indicativo di come lei invece che lavorare insieme allo sci in accelerazione in questo caso lei sta lavorando contro lo sci contro il terreno e questo le porta via un paio di chilometri all'ora andiamo sul momento dell'erroraccio qui è arrivata a settantotto chilometri orari settantotto chilometri orari entrando in un piano è un bel bottino è un bel bottino internata una neve una di una consistenza un po' in fida e e quella e quella frenata guardate come va giù il il nostro grafico delle velocità va giù drasticamente e lì se c'è da se fosse una gara c'è da mangiarsi le mani questo è un po' un un lavoro che fa il pro turn abbinato alla nostra le nostre riprese video che rende tutto molto più evidente dell'atleta ovvio che anche io allenatore posso sapere posso immaginare posso intuire che una sdraiata del genere mi fa perdere mi fa perdere velocità all'ingresso di un piano ma io penso che poi toccarlo con mano cioè vederlo proprio lì nel grafico e vedere i numeri rende rende tutto molto più più chiaro no? senti non si può usare in gara o è consentito che tu sappia non ci sono allora io in Sud America l'ho l'ho utilizzato un paio di volte e i giudici hanno un po' storto il naso qualcuno mi ha detto ma non si potrebbe usare io non ho trovato niente di scritto sinceramente sulle regolamentazioni fissa e poi di fatto in gara la fissa se fai gara di coppa del mondo la fissa al suo sistema all'ongine che tra l'altro è regolato da loro e di serve anche per la loro grafica sul sul segnale della del broadcasting quindi eh in realtà loro lo utilizzano ma no io non ho non ho mai saputo di una regolamentazione in tal senso ma ti ti può essere utile in gara la domanda è ti può essere utile se hai più atleti così metti gli atleti a confronto o ti può essere utile magari nelle prove di una discesa perché allora puoi confrontare come l'ho utilizzato io l'ho utilizzato in Sud America erano le prove di una discesa sì erano due super giro dietro l'altro e la tracciatura del secondo era più o meno si si ricalcava quella del primo e allora l'abbiamo indossato per vedere la differenza di traiettori la differenza anche di sci fra uno sci e l'altro qual era lo sci che arrivava con più accelerazione nei punti salienti della gara nei punti più pianeggianti e quindi mi è stato mi è stato molto utile poi anche un po' per dare una controllatina i tempi perché dici ma saranno giusti questi tempi erano erano abbastanza pertinenti pertinenti io ho fatto primi no 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 finisci pure il discorso ho fatto questo non so una qualità peggiore perché l'ho riportato da un computer all'altro da un telefonino all'altro questo invece è il sistema eh della telemetria overlay eh questo è Iuri in folgaria vabbè una sciata ovviamente ancora molto acerba tante spruzzate di neve però anche anche lui è stato utilissimo a vedere questa questa grafica abbinata alla sua discesa ma proprio dal punto di vista un po' ispirazionale no motivazionale perché dice cavoli come le discese di coppa del mondo c'ho tutto c'ho le velocità c'ho le frenate posso capire posso capire dove sono andato molto veloce dove invece ho sbagliato e magari l'avversario lì mi passa avanti e quindi devo dire che è stato molto utile per lui questa questo esperimento che abbiamo fatto solo a fine stagione ti volevo chiedere se eh è uno strumento che può essere più indicato soprattutto nell'alto livello a individuare magari il setup del giorno di gara o soltanto per un discorso di sistemare la tecnica o e o capire come come affrontare determinati passaggi. Beh a noi è servito tantissimo hm perché beh come tu come sai la la scia blizzard e altre atlete blizzard da così alto livello nordica sì ma blizzard non ce n'erano non ce ne sono così tante e quindi per noi è servito molto per dare dei feedback proprio all'azienda anche dal punto di vista dello sviluppo del del prodotto e e poi ehm noi l'abbiamo utilizzato durante tutto l'anno adesso arrivando di nuovo in condivisione di schermo solo per farvi vedere una cosa noi abbiamo utilizzato facendo un copy and colla banalissimo dei nostri dati eh quindi di quello che è la adesso mi sono finita qui di quello che è la nostra schermata no adesso torniamo di nuovo su una discesa qualsiasi l'ho tracciato Folgaria Folgaria prendiamo un gigante eh del quattro febbraio qui siamo a Bardonecchia quattro giri ok eh questa è la la parte alta di Melezze dove Lara ha fatto allenamento prima di farsi male perché si è fatta male il sette di febbraio quindi questo è un allenamento di gigante eh prima del patatrac qua ha le sue quattro prove allora io faccio semplicemente così vado a dividenziare tutto questo contenuto che sono le analisi e vado a fare copy and colla su un foglio o Numbers o Excel questo ci ha permesso con Alessandro di avere comunque il cronometro sempre anche nelle giornate di brutto tempo anche quando eh c'è nebbia anche quando comunque eh altri sistemi sarebbero difficilmente gestibili come come cronometri istituzionali eh e questo ci ha dato una quantità di dati infinita abbiamo costruito un algoritmo abbiamo nominato i diversi sci eh di di costruzione diversa e abbiamo anche individuato così facendo un pochino il eh il picco di prestazione la vita no? La vita di uno sci uno sci più morbido per esempio tendenzialmente è subito più ehm più facile no? Da gestire e quindi l'atleta si trova meglio e quindi dal punto di vista della prestazione tende a andare subito al massimo della del rendimento però uno sci troppo molle poi magari hm si snerva troppo utilizzandolo su piste troppo ghiacciate o utilizzandolo troppo spesso e quindi poi abbiamo visto magari una fase calante di 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 quello sci e di quella struttura man mano che andavamo avanti nella stragione quindi questo ci ha dato modo anche di fare una scelta di quale sci utilizzare in gara in base proprio a questo algoritmo prestazionale dei diversi sci e delle diverse strutture ehm beh diciamo che insomma poi da qui ad una scienza eh certa eh tu sai che lo sci è il mondo delle mille variabili quindi noi cerchiamo di tracciarne il più possibile e poi comunque quello che è importante è sempre la lettura la lettura un po' anche intuitiva dell'allenatore dello ski man eh le notti insonni a guardare questi dati a dire ma secondo te qual è lo sci più veloce l'abbiamo passato è lo stesso adesso questo per dirti che non è proprio eh così scontato no che che proterna poi ti risolva il compitino alla fine ci devi mettere del tuo però tanti elementi di di valutazione in più rispetto a quelli che abbiamo prima. Senti da quando tu hai scoperto questo sistema e hai iniziato a ad adottarlo quanto tempo ci hai messo per capirci qualcosa cioè per dire oh finalmente ho capito cioè è intuitivo o bisogna insomma metterci un po' di di attenzione? Beh diciamo che io non sono proprio così tecnologica forse sono anche un po' negata Marco quindi io penso che le nuove generazioni forse hanno un'altra facilità di approccio no con con queste tecnologie però io devo dire che un'estate alle desalpe mi è servita tutta e tanti colleghi che hanno magari sull'onda no del del dell'eccitazione di provare questo strumento nuovo lo hanno preso e tanti lo hanno abbandonato precocemente prima di trovare un pochino eh le funzionalità che a loro servivano di più eh ci vuole un po' di tempo sì ci vuole un po' di tempo ci vuole una passione infinita eh però poi poi quando ci prendi mano quando ci prendi dimestichezza è secondo me è un grande aiuto. Ok. Senti c'è una domanda da parte di Walter Stacco te la leggo così com'è. Allora è difficile sono sicura che è difficile. Walter è un cattivone. Sì è un cattivone. Allora dice Protean rileva i dati di posizione derivati dal GPS oppure nel dispositivo sono presenti dei sensori come unità di misura inerziale, giroscopio eccetera in grado di rilevare altri dati. Allora lì adesso bisogna chiedere ad Alastair qual è qual è il futuro di questo di questo di questo strumento perché io so che loro ci stanno lavorando ci stanno lavorando anche sull'accelerometro, sull'inclinometro eh quindi la domanda che dobbiamo fare nello specifico a lui. Per adesso quello che abbiamo visto insieme è un po' quello che tutto quello è il vedibile ma sicuramente stanno portando poi nuove innovazioni, nuovi sviluppi. Io però già la risposta perché nel meccanismo che abbiamo messo in atto con Laura, Saniga che in frattempo fa la domanda, ci arriva già la risposta e dice questo. I dati sulla posizione di Protean provengono solo dal GPS. Inizialmente abbiamo lavorato con Swiss Ski e abbiamo scoperto che il vantaggio di includere l'accelerometro e il giroscopio non aggiungeva una precisione sufficiente alla gestione della mole complessiva dei file di raggruppamento per l'analisi e l'elaborazione dei dati. Quindi quindi questo è poi dice se dirate anche una risposta a una discussione più dettagliata potete inviare anche ecco questa è una informazione che diamo. Ci sono domande particolari eh potete mandare una mail al a questo indirizzo che si scrive alastair chiocciolaprotern.io. Alastair, alastair il nome di presente con che 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 qua con noi che ci sta che ci sta ascoltando. Hanno anche chiesto come si sincronizza il video al GPS. Allora è facile bisogna facile più o meno dico facile io. Chi mi conosce tipo Cappelletti sa che ci ho litigato per qualche tempo. Vado ancora in condivisione di schermo. Mh quando vai a fare lo scarico dei dati avrai una roba del genere. Adesso ve la apro. Ok questo è il è il la raccolta dati che va inserita nell'app specifica. Io uso telemetry overlay ve l'ho già detto. La inserisco dentro e vado eh direttamente mi va direttamente a sincronizzarmela con con il video. Tra l'altro poi qua ci sono anche delle cose che sto vedendo adesso se vogliamo proprio passare la notte sui numeri interessanti perché vedi anche la durata la durata e l'entrata di velocità da una curva destra alla curva sinistra in modo sequenziale eh rispetto a tutto quello che è il nostro tracciato. Quindi magari se arriviamo lavoriamo su un terreno molto omogeneo dove la curva destra eh è è identica alla curva sinistra difficilissimo nello sci però magari ecco arriviamo da un recupero da un infortunio e vogliamo vedere se la l'uscita curva eh se riusciamo a tenere la curva più stretta risolverla più in fretta eh da una parte o dall'altra questo potrebbe essere anche uno dei dei riferimenti possibili. Poi ecco chiedete ad Alastair perché in quel senso per esempio oggi gli ho chiesto proprio a loro come hanno fatto con il video che vi ho appena fatto vedere perché io usavo un'altra app che è quella che avete visto in sovraimpressione di di Yuri. Ok eh senti tu quindi usi questo sistema come cronometraggio principale non ti porti più dietro in allenamento eh fotocellule insomma i sistemi tradizionali. Sì e tra l'altro devo dire ehm è vero che allenarsi insieme agli altri è bello però è sempre ti condiziona continuamente no perché comunque vai ad aggregarti ad un'altra squadra si crea quella tensione emotiva da adesso devo cercare di fare il miglior tempo devo far vedere che sono forte anch'io invece devo dirti che per esempio con con Lara ci siamo allenati insieme eh fortunatamente quest'inverno ha delle fortissime come Blova e come Shifrin mantenendo un pochino il nostro profilo basso nel senso che Lara indossava il suo il suo pro turn e quando ci chiedevano volete utilizzare il cronometro? Anche no perché è giusto che poi ognuno lavori su se stesso no? Cosa è interessante vedere il paragone video sì tra ovviamente fra queste grandi. No vediamo. No è anche molto molto stimolante rimanere focalizzati sul proprio processo di miglioramento continuo eh è un po' questo il meccanismo che a me piace un sacco di pre turn poi se vogliamo parlare della gestione di un gruppo che è la funzione che magari qualche allenatore eh giustamente dice ma tu stai parlando della gestione di Lara Colturi eh e sembra tutto molto facile ma come andare a gestire un gruppo allora ogni atleta indosserà il suo il suo non ho fatto la condivisione di schermo giusto? No. Ogni atleta indosserà il suo pro turn ok questo per esempio è un'attività di gruppo qua vediamo la raccolta dati di tutti gli atleti ecco una cosa molto interessante è anche come posso allora prima di tutto eh anche se non riesco visivamente ad avere una copertura totale di tutta la pista io scaricando i dati posso mettermi già subito il mio primo split alla prima porta e vedo già anche se il mio gruppo mantiene il ritmo o se magari c'è qualche pigrone che non si spinge abbastanza in partenza lo posso vedere già sul campo quindi mentre io correggo un atleta eh e l'altro magari non riesco a vederlo per morfologia della pista perché sono distratto io quando arrivo giù scarico i miei dati e dico eh caspita però ragazzi qua possiamo spingere un pochino di più cioè se è stato tre decimi quattro decimi più lento nella partenza rispetto agli altri e quindi possiamo anche dare quella tiratina ad orecchie che altrimenti magari non non riusciremo a dare perché è difficile avere monitorare eh all'interno di un gruppo di uno sci club alle prestazioni di tutti soprattutto nei punti dove non vedi e poi l'altro quesito è come aiutare quelli veloci a a ad essere sempre più veloci nel senso che noi guardiamo magari la i dati di un cronometro e c'è eh questa Lana che è sempre prima brava Lana sei sempre stata brava oggi e che spunto le diamo per migliorarsi invece il ProTurn anche qui ti dà degli strumenti in più perché tu ti vai a selezionare tutte le sue discese ok dici ok Lana è vero che sei stata la più formidabile del gruppo oggi però andiamo a vedere che margine di miglioramento tu hai su te stessa allora qua andiamo a cambiare la modalità la mettiamo su eh ok su relativa e qui vediamo che il giro migliore cioè il giro migliore è il più veloce quello è la linea che rimane orizzontale no? E tutti gli altri colori rappresentano invece le altre run e dove lei ha dei picchi verso l'alto è dove ha fatto la differenza in meglio dove invece lei va verso il basso e dove ha frenato o ha sbagliato di più rispetto alla sua discesa standard quindi lì andiamo anche a vedere insieme al nostro atleta ok guarda qui però siamo al al secondo split siamo a eh adesso non so quanti secondi dalla partenza comunque saremo una trentina di secondi dalla partenza ok andiamo a vedere come mai in questa in questa prova eh del sesto del sesto e del quinto giro hai perso così tanto ok magari è un errore tecnico magari è anche un errore di interpretazione di traiettoria andiamo ad ingrandire e qui vedete che comunque nonostante in tutta la prima parte del tracciato l'ana sia stata molto uguale a se stessa e questo magari può essere sinonimo di una bella consistenza dell'atleta nel replicare il gesto nella prima parte dove è fresco e dove invece magari va un po' in affaticamento allora ecco che salta più facilmente l'errore no oppure può darsi che la prima parte del tracciato fosse talmente facile che eh che lei ovviamente è riuscita a replicare tutte e sei le volte la stessa prova in modo abbastanza uniforme laddove invece si complicava la vita ecco che la lettura tecnica e e ovviamente anche quella delle traiettorie ha fatto di molto la differenza quindi ecco dove ProTourne ci permette anche di vedere sempre un processo di miglioramento continuo anche con quell'atleta che gli diresti solo bravo cosa vuoi fare hai fatto sei prove più veloci di tutti gli altri eh ok Dani adesso ti faccio faccio una domanda da Alastair che intanto Laura chiede passa passa per aver la risposta eh quindi la domanda di Alastair è visto che abbiamo parlato di di club no quindi non di un'atleta sola qui non è un'occasione commerciale solo tecnica però una curiosità importante è se esistono comunque delle delle forme di di acquisto per chi vuole dotarsi di non so venti ProTourne ecco immagino solo mi interessa solo sapere se sì o no poi eventualmente con le mail vi chiedete tutto eh quindi intanto Laura se puoi fare questa domanda da Alastair e Dani invece ti chiedo ma usandolo poi forse si diventa anche un po' schiavi no di questi strumenti come per altre cose in altri ecco non ti è mai capitato dire porca misera se però potesse rilevare anche questo dato sarebbe ancora meglio cioè quindi c'è qualcosa che manca secondo te a questo oppure va bene così io per quanto mi riguarda io farei una matura al contrario a volte me ne da troppi di dati io dico che la cosa che mi interessa di più ci sono le velocità eh ovviamente i tempi per ogni settore e le traiettorie a me basterebbero anche anche solo quelli in realtà poi ti dà molto di più e mi piacerebbe per esempio vedere questa eh questo delta no di differenza fra una prova eh fra la migliore prova e tutte le altre prove dove sta la differenza dove è stato il il delta di di differenza in positivo e in negativo nei vari punti della del percorso l'ho scoperto la settimana scorsa con Alastair non lo sapevo eh questa è una cosa utilissima che non sapevo di voler sapere quando me l'ha detta ho detto cazzo scusate cavolo è una figata ok senti eh banalmente ehm la manutenzione di questa attrezzatura non prevede nulla di che acqua neve ha sempre funzionato la batteria è eterna però comunque è sempre bene già quando tu fai lo scarico dei dati quindi lo connetti con il tuo cavo lui si ricarica in automatico quindi in realtà non mi sono mai trovata con ehm con il pro turno scarico e neanche overload it cioè neanche pieno di pieno troppo carico di dati perché lui si pulisce ogni volta che tu lo utilizzi quindi questo tra l'altro è uno sviluppo che è avvenuto nell'ultimo anno perché prima invece dovevi fare una pulizia dati ogni volta che tu lo utilizzavi adesso proprio lo attacchi lo stacchi e lui è sempre tu sufficiente e non bisogna perderlo è molto piccolo la tragedia è stata a San Moritz Andrea lo sa perché siamo andati un pochino nel panico e Lara lo aveva perso in realtà poi dobbiamo ancora aggiornare Alastair perché poi non ne abbiamo più detto l'abbiamo ritrovato in una tasca secondaria del suo zaino e ecco è facile perderlo quindi lì bisogna un pochino sensibilizzare soprattutto gli atleti più giovani ad averne cura perché essendo così piccolo basta veramente poco. Beh ci potrebbe visto che alla fine un GPS c'è il GPS per controllare dove va finire no? Non lo so forse da spento no in effetti perché Lara lo aveva spento e da spento non lo so Alastair mi ha detto facciamo prima a fartene arrivare un altro tempo due giorni eravamo a San Moritz c'era uno chic club svizio che lo stava utilizzando e mi hanno spedito mi hanno spedito il loro quindi ci hanno salvato la vita e poi a un certo punto ce ne avevamo due quindi figata due Alastair non lo sai lo vedrà dai dati che scarico. Ok intanto è arrivata la risposta di Alastair sulla sua domanda se esistono dei pacchetti insomma per i club quindi c'è per la domanda che hai fatto certo possiamo fare sconti sui sui volumi più grandi tra l'altro basta compilare il modulo sulla pagina che è appena stata messa da Laura in chat quindi per per procedere con con anche altre informazioni quella è la mail e il formal per chiedere per per avere delucidazioni. Qua dobbiamo soltanto parlare dal punto di vista tecnico ma diciamo insomma che abbiamo detto l'ABC di questo di questo sistema ci siamo persi qualche qualche curiosità insomma abbiamo detto abbastanza no di di della sua funzionalità di quello che è in grado di alla fine insomma mi sembra di capire che non che non sono tantissime le cose di cui eh hai bisogno per migliorare la situazione no della dell'atleta sono sono quelle cose che sono strumenti che è uno strumento che ti aiuta anche nella praticità perché invece di portarti dietro un sistema di cronometraggio ce l'hai lì eh poi forse invece di avere una persona che fa click a metà pista eh è una facilitazione più 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 che altro no? Da punto di vista pratico eh sì è una facilitazione straordinaria anche solo il turista che ti taglia le cellule o l'atleta che è uscito dal percorso e poi rientra davanti a quell'altro eh anomalie dell'apertura del cancelletto ecco queste sono tutte cose ludibili risolvibili perché perché è facilissimo basta accenderlo e spegnerlo e poi cambia un po' la prospettiva come dicevo Marco cioè non è più una macchina della verità come il cronometro ti ti dà cosa cosa ti serve dove tu lo vuoi vedere quindi è un pochino più ha delle sfaccettature che rendono tutto molto più più creativo. Ok ho ancora una curiosità personale se secondo te questo strumento ti aiuta di più in gigante in discesa in slalom super G dove dove pensi poi alcune cose forse in discesa devi ancora sperimentarle probabilmente non lo so. Eh sì noi stiamo arrivando dalla categoria Children quindi l'abbiamo utilizzato ovviamente in modo massivo in gigante e anche laddove avevamo bisogno di avere dei dati per per fare quello che era lo sviluppo dello sci. Eh in slalom c'è un po' questo delta di imprecisione sulla traiettoria ma io me ne frego e guardo tantissimo le traiettorie in slalom è dove io vedo sul video che una sciata più rotonda il pro turn in sovrapposizione con quella più efficace mi fa vedere che è troppo rotonda e e ovviamente però dilatando gli spazi tra le porte e parlando di quanto sia importante la traiettoria in termini proprio di di prestazione ovviamente la velocità è il regno della telemetria come come abbiamo fatto anche l'esempio degli sport motociclisti del motociclismo dell'automobilismo e motosport in generale dove eh le velocità si alzano allora sì che la traiettoria e i particolari incidono molto di più. Certo ok se ti faccio un'ultima domanda che un po' un po' particolare soprattutto eh per te che hai due atleti ove Lara ormai già nell'alto livello ma Yuri insomma che comunque rappresenti non dico un'anomalia però insomma hai già due ragazzi già ben inquadrati poi Yuri magari decide di fare il camionista nella vita non lo so però insomma ok ecco questi questi strumenti qua secondo te gli allenatori dovrebbero tenerli sì li uso però li tengo un po' nascosti cioè non dico niente non lo faccio pesare troppo all'atleta o è bene che l'atleta ne sia consapevole però con il rischio magari di creargli un un così un un ambiente un po' troppo eccessivo no? Non so se hai capito un po' la la domanda se sono riuscito a trasmetterti questa cosa. Assolutamente se è stato chiarissimo è una domanda molto interessante Marco è un po' quello che ci chiediamo noi allenatori tutti i giorni quanto di quello che noi vediamo cioè noi abbiamo il dovere di vedere tutto il quello che è analizzabile no? Perché più elementi hai e più vai a confermare le tue teorie o anche a contraddirle anche a scoprire cose nuove ma poi all'atleta tu devi devi dare solo le cose indispensabili solo quello che a lui serve veramente anche perché il livello d'attenzione di queste nuove generazioni è dura 30 secondi tu lo sai meglio di me insomma di ragazzini ce ne hai a casa e quindi devi trovare le parole giuste per esprimere il concetto che gli vuoi far arrivare nel modo più semplice possibile e questo è il lavoro di noi allenatori quindi tutto quello che sono gli strumenti la tecnologia secondo me è un must cioè dobbiamo averlo perché se no vendiamo aria fritta vendiamo in questo contesto è poco è poco pertinente perché io parlo di mia figlia però anche come allenatore come figura professionale io devo devo avere tutti gli strumenti che vadano ad avvalorare le mie teorie e saperli anche dimostrare però poi dall'altra devo fare un lavoro di semplificazione perché l'atleta poi troppe parole in testa esiste l'overloading anche per per gli atleti non solo non solo per gli strumenti no ecco andare in overloading vuol dire rallentarlo l'atleta deve pensare il meno possibile avere un'immagine chiara di quello che che vuole andare a fare e tu sappia ci sono delle particolari differenze se lo uso nello sciarpino o nello snowboard o in altri sport di neve che tu sappia ma potrebbe essere adesso vado così un po' istinto potrebbe essere relativo forse al mondo delle inclinazioni cioè dove c'è più inclinazione allora ecco che l'analisi delle traiettorie potrebbe essere un po' meno probante se no io l'ho utilizzato anche per fare il test di cooper ci ho messo una giornata perché sono proprio negata però l'ho utilizzato a diverse accezioni non ha solamente quella relativa allo sci alpino tu puoi scegliere l'accezione che ti serve di più che può essere anche running e ti vai a fare il tuo test di cooper con il tuo pro turn invece che anche lì metterti con cronometro prendere le distanze hai tutto già fatto ok eh vedi è arrivata una domanda in chat che è esattamente quella che ho fatto io sono differenze se utilizzi lo sci alpino fondo snowboard eh gli ha chiesto anche ad Alastair se c'è se c'è qualche differenza ma bene o male sarà sarà penso penso questo eh boh io non so se c'è qualche altra curiosità che non abbiamo detto Dani mi sembra che l'ABC che era il nostro compito no ci siamo detti l'abbiamo un po' sviscerato e intanto che ci arriva una risposta di Alastair per chiudere all'inizio ti ho chiesto com'è la situazione di della ragazza di Lara adesso si può già dire quando riuscirà a mettere gli sci sulla neve? Allora stiamo facendo le cose molto con calma perché tu sai insomma che è particolarmente giovane a sedici anni quindi la nostra prospettiva è deve essere necessariamente lungimirante quindi andare adesso a forzare quello che sono i tempi obbligatori perché alla fine tu sai no il ritorno in pista è a sei mesi è inutile volerlo anticipare il ritorno alle gare più tardi soprattutto negli under diciotto più lo ritardi e più è garanzia di 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 eludere eh la la brutta probabilità di o di un recidivo no di un di farsi male di nuovo quindi quello che è l'idea generale è tornare sulla neve verso metà agosto perché il metà agosto sono sei mesi precisi precisi però poi andiamo anche a vedere i tempi del suo ginocchio i tempi di Lara che in questo momento si sta dedicando alla sua adolescenza in senso lato quindi l'amore la scuola le amicizie e quindi quando lei sentirà il il bisogno poi di tornare veramente in pista con la anche con la testa lo faremo ok approssimativamente verso metà agosto e in sudamerica in linea di massima ok eh ah ok qui mi dice Laura che sta traducendo la risposta ok mi scrive lavoramento ci aiuta a continuare a migliorare il software ogni mese durante la stagione sciistica aggiungiamo nuove funzionalità come una migliore integrazione video e metriche siamo entusiasti di tutte le funzionalità insomma è ovviamente siccome la tecnica è sempre in evoluzione i materiali sono sempre in evoluzione ovviamente anche i software che li leggono devono essere sempre no in evoluzione quindi sicuramente ci sono adattamenti poi è chiaro che se si apre un mercato se non dopo tutti hanno bisogno di cose particolari evidentemente l'azienda si mette a elaborare quello che perché credo siano insomma ci ha spiegato prima anche che lavorava abbastanza con la Swiss Key quindi eh è un è uno sviluppo che ha assolutamente bisogno di essere di ricevere dei feedback dagli atleti dagli allenatori no penso sia proprio sia proprio indispensabile questo sarà accreditato anche a te no di chiedere abbiamo chiesto qualche cosa su come migliorare soprattutto sulla sull'utilizzo no io credo che il lavoro che adesso faranno scusate i vigili del fuoco ma non mi riguarda i lavori che faranno saranno sempre mh rivolti alla funzione alla facilità di funzionalità per esempio prima scaricare i dati e abbinarli all'immagine e video era molto più complesso come 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 meccanismo adesso è diventato sempre più semplificato quindi un lavoro di semplificazione quello che mi auguro anche perché proprio per il fatto che sono un po' negata ok va bene passata l'oretta di di lezione direi che è sufficiente comunque eh ormai avete conosciuto eh proterna sapete quali sono gli indirizzi alla sera sicuramente contento se fate ulteriori domande perché probabilmente da queste domande poi scaturiscono anche altri sviluppi no della del 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 sistema eh abbiamo ancora due domande a cui rispondere in chat e quali sono me ne sono perse forse eh Laura se vuoi intervenire direttamente tu in questo caso dentro la chat per dire eccoci stiamo un attimo ultimando le le risposte ma ci stiamo eh allora rispondo direttamente a voce ad alcune delle domande che ho visualizzato in chat parto eh dicendo che i sensori appunto sono hanno resistito diciamo anche a a pressioni di diciamo a interruzioni di curva di atleti di coppa del mondo quindi la resistenza è veramente molto molto alta rispetto alla domanda che aveva posto il signor il signor Petra Basezzi e invece poi abbiamo la penultima doma l'ultima domanda di cui per cui chiedo ancora solo un momento per riuscire a dare una risposta che sia quanto più esaustiva che è l'utilizzo di un sessore che registra con che registra in continuo potrebbe essere un ottimo strumento per monitorare il carico durante una giornata è una funzione che pensate di implementare e rispetto a questo sto aspettando la risposta di Alester che sta scrivendo proprio in questo momento anche se dopo aver appunto avuto modo di confrontarmi direttamente con lui la risposta è proprio sì e anche il motivo per cui eh vi è un abbonamento diciamo rispetto all'utilizzo è proprio perché tutti i dati raccolti permettono una continua eh un continuo lavoro uno sviluppo per il miglioramento e dunque l'obiettivo è proprio quello quindi possono misurare il carico della giornata continuamente non vi è un sovraccarico è ancora sperimentale ma possono misurare la velocità di discesa e logicamente la forza dei giri il numero dei giri la conduzione tutti questi elementi e motivo per cui è utilizzabile rispetto alla domanda che aveva fatto Marco precedentemente anche in altre situazioni sportive non solo legate al contesto del mondo dello sci dallo snowboard allo sci alpino allo sci di fondo ma anche per altre situazioni quali ad esempio il ciclismo vedi tu vai in bici Dani no basta ho già dato beh direi Laura non so se ti deve rispondere ulteriormente ma la tua risposta direi che è stata abbastanza chiara no eh o sta ancora scrivendo no no abbiamo terminato spero che la risposta sia stata di gradimento assolutamente assolutamente è stata molto molto chiara Dani ti ringrazio della grazie a voi spero di essere spero di essere speriamo di aver fatto una cosa utile per tutti gli allenatori e ripeto il punto di riferimento adesso non assilate Daniela ma chiedete direttamente tutto quello che sapevo l'ho già detto quindi se mi fate altre domande non le so ok va bene grazie a tutti e buona estate anche se noi ancora stiamo un po sulla neve a testare sci e poi insomma per noi addetti ai lavori l'estate è quasi un pastiglio nel senso che ben venga ben venga anche un po di attività sulla neve in questi periodi ciao grazie a tutti grazie a tutti ciao grazie a tutti ciao alla sera e ciao Andrea grazie ciao grazie a tutti ciao Grazie.